Reccoci insieme con Biancheroso di Sport e con Franco Castellano, intanto credo che siamo pronti a collegarci con il presidente del CUS Bari, professor Renato Laforgia. Pronto professor Laforgia? Non ancora? Aspettiamo qualche istante e poi andiamo con questo collegamento. Intanto vediamo un po' se indovinate chi può essere Mr. X, è diventato un po' il quiz, il rebus del giorno, dell'estate a Bari. Chi può essere Mr. X? Qualcuno ha identificato Mr. X come un gruppo che ha origini in Qatar e hanno già mostrato foto dello scecco di turno. Altri lo riconducono ai paesi asiatici, alla Cina, insomma davvero un rompicapo. La logica dice che è perlomeno singolare come per quanto sia a questo momento nessuno sembrasse interessato al Bari. Adesso spuntano come funghi anche i canadesi. Obbiettivamente se ci fosse da votare, io voterei sicuramente Montemoro, tanto per chiarire l'intervento di prima del signore, ma le realtà sono diverse. Le realtà sono diverse perché se uno vuole comprare, compra. Se il venditore vuole vendere, non ci sono problemi. Poi è chiaro la trattativa, le cose, siamo felici che sia a Bari, però poi verranno gli altri. Ma vorrei ricordare a tutti che noi siamo partiti con una cordata denominata di Vella. Siamo partiti con una cordata di Vella. Che cosa è successo poi? Inutile dirlo, no? Inutile stare a fare commenti e magari speculare su certe situazioni. La grande verità è che oggi il Bari è sempre della famiglia Matarrese. E non so, io mi accerterei veramente con una questione proprio chiara e credo che l'onorevole Antonio l'abbia detto. Vogliamo vendere il Bari. Dimmi tu se è vero o è bugia. Certo. Allora se lui vuole vendere il Bari, l'onorevole Antonio vuole vendere il Bari, c'è una cordata Matarrese che vuole vendere, ma non c'è un'altra cordata che vuole comprare. O perlomeno fa dei prezzi, fa delle storie. Io spero e ripeto, voto ancora per Montemurro che si mettono d'accordo stasera e domani. C'è una miglia in linea, pronto? Meno male che il dottor Castellano ha corretto un attimo il tiro con quest'ultima frase, perché ora va a finire che è proprio Montemurro la causa del problema. No, per l'amor di Dio. Vi tolgo soltanto 180 secondi, però vorrei che mi lasciassi a parlare. Sembrano tanti, tre minuti, al telefono sono tanti. Se fai 75 secondi è meglio, vai. Va benissimo, è tutto un richiamo ai telespettatori di Telebari, ogni tanto facciamo un complimento a Telebari, perché io vorrei chiedere dove sono quelli emittenti che facevano la trasmissione lunedì sera, giovedì sera, venerdì sera, mercoledì sera, in tempi belli e in tempi buoni. Sono scomparsi tutti, prima di tutto. Secondo Enzo, un invito, i telespettatori che chiamano ogni giorno, sempre gli stessi, si facessero un attimino un esame di coscienza, c'è anche altra gente che vuole intervenire. Cioè sentire sempre le stesse voci, i stessi uomini. Va bene, va bene. Secondo, terzo, dottor Castellano, se io voglio vendere una casa, sono anche tenuto a non doverla vendere perché non la voglio vendere, perché magari 20 mila euro, però devo anche assicurare un certo decoro alla casa, non è che posso permettere che delle tubazioni escono le magnotte o le zoccole o così via, cioè devo anche tenerla in una situazione decorosa. Terza cosa e ultima cosa, Aima Tarris, io ritengo Enzo, correggimi se sbaglio, che questa sia una istigazione alla violenza, perché noi siamo ostaggi da anni di questa situazione, questa è una istigazione alla violenza. Io ti concedo questo, però arrivare addirittura alla violenza è fuori luogo, cerchiamo di escludere questa parola dal nostro obiettivo, che si possa essere arrabbiati, che si possa essere delusi, che si possa… è un discorso, però togliamo questa parola scorta, cancellata dalla vostra testa, perché comunque se arriviamo a parlare di queste cose, probabilmente non è questo il contesto giusto. Parlando di cose serie dobbiamo continuare anche a divertirci, non è quello il problema, guai ad arrivare a questo che ha detto il signor, speriamo che lo dimentichi e lui si rifaccia, perché è troppo brutto. Comunque davvero io credo che sarebbe provvidenziale in questo momento se Mr. X fosse un mister non più X, ma X più Y al quadrato, cioè se fosse una persona in carne ed ossa che davvero mostri entusiasmo per le vicende del Bari e che faccia sognare un po' i tifosi. Ci vorrebbe, guardate, rinuncio persino all'idea che mi piace tanto, l'ho detto anche ieri, di Montemuro, il presidente del Bari, perché per me il Bari deve tornare le mani dei barese, di un barese tifoso del Bari. Poi vedremo, si dice, non ha tanti soldi, va bene, non sarà un magnate, però io credo che quando siano le idee, la passione, l'entusiasmo, si possa andare anche oltre i limiti economici. Quindi hai votato anche tu. Sì, io non lo dico, ma io lo dico dall'inizio, perché per me è un tifoso del Bari. È chiaro. Allora io quelle poche volte che ho avuto modo di incrociarmi con Montemuro, una volta ho parlato un po' con lui e abbiamo parlato del Bari, dei giocatori del passato, cioè a me l'idea che uno come noi voglia farsi carico di portare avanti il Bari è una bellissima idea, un po' romantica se vogliamo, il calcio poi è ben altra cosa che il romanticismo, lo vediamo anche con le relazioni di oggi della Guardia di Finanza, perché qui tutti quanti parliamo di romanticismo, il romanticismo riside nei tifosi, gli altri invece sono a volte cinici speculatori sulla passione dei tifosi. Però l'idea che possa essere uno così presidente del Bari a me piace molto, credo che uno del genere andrebbe incoraggiato dall'intera città e sostenuto dall'intera città. Poi si arriva, pinco palla dalla Corea, dal Canada, da Marte che mette un sacco di soldi e si prende il Bari, io credo che ai Matarrese non possa essere detto nulla, perché i Matarrese da buoni venditori devono vendere, e buoni imprenditori, devono vendere al miglior prezzo possibile. Adesso questa società è passata da De Palo a Matarrese, De Palo era barese, Matarrese è di Terlizzi, è di Terlizzi De Palo, Bari non è da tanti anni, Terlizzi e Barie. Allora, voltiamo pagina per qualche istante, perché abbiamo parlato dei problemi del CUS Bari, di una sorta di allarme lanciato dai dirigenti del CUS, gli impegni sono gravosi anche per la prossima stagione, o ci danno la mano gli sponsor, oppure diventa difficile. Ne parliamo col presidente del CUS Bari, il professor Renato Laforgia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E allora, se anche Franco Castellano che immagino la voglia salutare. Lo sento, l'ho sentito. E' una vita che ci sentiamo. In che termine è questo allarme? E' un allarme rosso o un po' più sbiadito? No, è un allarme rosso, un rosso acceso perché abbiamo diversi problemi. Innanzitutto, come Franco Castellano sa, la federazione che ci chiede un sacco di soldi. L'anno scorso, per tenere fronte a tutti gli impegni della federazione, abbiamo avuto un esborso di 140 mila Euro a fronte di un income di appena 25 mila Euro. Quindi abbiamo pagato di diritti alla federazione praticamente 115 mila Euro. E sono cifre che in questo momento non ci possiamo permettere. Inoltre, i nostri sponsor, in particolare l'Aliomatic, rappresentava il main sponsor, ha messo in cassa integrazione alcuni dei suoi operai e quindi si è rivolto a noi chiedendo un ridimensionamento dell'apporto e ovviamente questo ci preoccupa molto perché renderebbe la partecipazione qualificata al campionato dell'anno prossimo molto difficile. Quindi ora capiamo perché il Curs chiede aiuto. Sì, noi lancieremmo un appello. Se ci fosse qualcuno intenzionato ad appoggiare un progetto che, come abbiamo dimostrato nei due anni in cui abbiamo avuto la possibilità di svilupparlo, riporta il basket in auge e abbiamo anche dimostrato con le serie giovanili un impegno ricco di risultati e ovviamente